E' ripartita la Carovana della Salute, progetto nato dalla FNP Cisle insieme alla IAPB Italia Onlus per il raggiungimento di un obiettivo e cioè promuovere la prevenzione ed essere vicini a coloro che ne hanno bisogno offrendo visite gratuite come visite oculistiche, diabetologiche, cardiologiche, ecografia della carotide, della tiroide e dell'addome. L'appuntamento unico in Abruzzo per il 2023 si svolgerà in Piazza Martiri della Libertà a Teramo il 14 e 15 ottobre dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Abbiamo messo in campo sia per quanto riguarda sabato e domenica diversi screening in compagnia intanto anche con l'alto patrocinio della Regione Abruzzo che ci riconosce l'importanza di questi avvenimenti. Nello stesso tempo con il comune di Teramo, col patrocinio del comune di Teramo e con lo stesso tempo col patrocinio della ASL. E la ASL devo dire che è stata molto sensibile rispetto alla proposta che gli abbiamo lanciato e che ha accolto con molto interesse, tant'è che basta guardare il programma per capire l'importanza che dà anche la ASL a questo evento. Grazie alle associazioni e ai medici che parteciperanno alla Caromana della Salute per due giorni sarà possibile assistere ad incontri, effettuare visite specialistiche ed esami di screening gratuiti. Molte le associazioni che accoglieranno le persone con punti informativi per la promozione della salute e del benessere. Noi abbiamo tanti disabili visivi e purtroppo stanno aumentando anche a causa della crisi economica e a causa anche della pandemia. In Abruzzo ci sono 4.000 non vedenti totali e circa 75.000 disabili visivi. Bisogna fare molta attenzione appunto alla prevenzione per evitare l'aggravarsi di chi magari ha già qualche problema e non se ne rende conto e quindi con le visite, con piccoli accorgimenti, con piccoli controlli si riesce ad evitare gravi ripercussioni future sulla salute delle persone. Grazie.